Pride a Napoli, in piazza ecco il corteo arcobaleno, oggi la manifestazione lungo le strade della città per rivendicare la parità dei diritti, anche De Luca e la CGL in campo, ma Forza Italia avvisa la difesa dei diritti appartiene a tutti, in strada non solo la sinistra. Riapre il lido di Bagnoli, protesta a Mappatella Beach, a Napoli era aperto oggi il lido comunale di Bagnoli, tanti si sono subito riversati in spiaggia per godere dell'area pubblica attrezzata, e a Mappatella Beach la protesta di Europa Verde e Borrelli via la criminalità dei nostri arenili. Lotta alla camorra, Piantedosi manda 100 agenti, il ministro dell'interno stamane ha annunciato il potenziamento del piano sicurezza per le metropoli, previsto l'invio di nuove unità anche a Napoli, saranno al fianco dei cittadini, assicura il numero uno del biminale. Avelino Blitz in carcere, trovati droga e cellulari, 80 agenti hanno fatto irruzione nel penitenziario di Bellizzi Irpino, momenti di tensione con i detenuti che contestavano i controlli. Sequestrati cellulari e droga, il sindacato denuncia agenti spesso soli nelle strutture. Sanità a caso Sant'Agata, scontro con la regione dopo l'affondo del governatore contro il deputato di Forza Italia Rubano, che aveva guidato la protesta in regione per la chiusura del pronto soccorso Sannita, è arrivata la risposta del deputato. Grave strumentalizzare la vicenda. Napoli e Conte Mania, spuntaggia il primo murale, a Casoria in uno stabilimento la prima opera dedicata all'allenatore. Intanto dopo Cvarascheli e Di Lorenzo anche Lobotka vuole andare via, a Salerno il club rischia di perdere Gionbert. Nel benevento addio di Kubica, nell'Avellino visite e firma per Iannarilli. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. In apertura il Pride Napoli 2024, anche il governatore De Luca al concentramento della manifestazione in piazza Municipio, ma Forza Italia avvisa con il coordinatore Martuscello in strada, non soltanto la sinistra. Vediamo. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e ha mantenuto la parola. Vincenzo De Luca si è presentato nel pomeriggio sfidando la canicola della fornace di piazza Municipio al Pride Napoli 2024. In un momento nel quale i diritti civili sono messi in discussione, è giusto che anche le istituzioni scendano in piazza. E questo alla fine è il senso della nostra presenza. Credo che noi dobbiamo riuscire ad acquisire per tutti, per tutti, cioè per tutte le persone intellettualmente oneste e in buona fede, il valore fondamentale della solidarietà umana, della tolleranza, vorrei dire della compassione, per utilizzare un termine cristiano, cioè la capacità di soffrire insieme, di vivere il dolore anche degli altri. Questo come atteggiamento umano in fondo, poi ovviamente c'è il tema specifico dei diritti e qui dobbiamo acquisire come conquista rinunciabile il diritto di ogni essere umano ad organizzare la propria vita secondo i propri valori, i propri sentimenti. L'edizione del Pride 2024 a Napoli ha visto la presenza anche del sindaco Gaetano Manfredi. Noi vogliamo una comunità che sia sempre più aperta e sempre più rivolta al futuro. Napoli lo è culturalmente, naturalmente in questa direzione, l'ho sempre stato, sta rafforzando questo percorso, quindi ci sarà un grande Pride con una straordinaria partecipazione anche della città. Cambiamo argomento, a Napoli ha riaperto oggi il lido comunale di Bagnoli, tanti si sono riversati in spiaggia per godere dell'area pubblica attrezzata, ma a Patella Beach invece protestano i rappresentanti di Europa Verde. Vediamo. In un sabato caratterizzato da temperature roventi a Napoli ha riaperto il lido comunale di Bagnoli. Si tratta di uno spazio pubblico attrezzato con ombrelloni, sdraio e sedie che sono state donate dal regista Paolo Sorrentino. La struttura destinata all'elioterapia è priva di barriere architettoniche ed è fornita anche di docce, servizi igienici, pergole ed un'aria rinfrescata con nebulizzatori ad acqua. Dopo anni di abbandono il lido è stato rimesso a nuovo. E già nel primo giorno di riapertura ha rappresentato una piacevole scoperta per tanti napoletani. Il tema delle spiagge libere intanto resta centrale nella città di Napoli. A Mappatella Beach si è tenuta una manifestazione per la legalità, organizzata da Europa Verde che dopo le aggressioni subite dal deputato Francesco Emilio Borrelli ha chiesto il ripristino della sicurezza sugli arenili cittadini. Lì ci sono i soggetti che hanno aggredito a me e al chiosco dell'altra parte, legati al clan della Torretta, che continuano a gestire e a vendere, a fare un commercio abusivo di sedie a sdraio e di ombrelloni, oltre che a vendere bibite illegalmente. Se ne devono andare. Da qualche giorno intanto la spiaggia è sorvegliata da mare con acquascooter della polizia. Le spiagge sono dei napoletani, anzi, non sono le moto d'acqua, ma viene costantemente l'ARPAC a fare controlli, perché viene monitorata anche la qualità dell'acqua. Questa è la Napoli del futuro, non quello degli abusivi, dei delinquenti, dei camorristi e di chi si prende impropriamente le spiagge. E questo è il primo weekend di partenze. L'estate entra nel vivo tanti turisti stranieri e italiani che affollano la campagna. Vediamo. La campagna incanta i turisti nel primo weekend di caldo estivo che fa assaporare la magia di questi luoghi. Boom di stranieri nelle isole e nelle costiere, nonostante le temperature roventi. E per chi non può permettersi di viaggiare, spiagge piene anche in città per sfuggire alla canicola. Come sempre la costiera amalfitana fa registrare il pienone, tra vippe e stelle di Hollywood, anche tanti visitatori da tutte le regioni d'Italia, in fila per imbarcarsi al molo masuccio di Salerno. Ci stiamo facendo un giro sulla costiera amalfitana. Oggi facciamo Amalfi e Positano. Dopo un anno di lavoro finalmente si inizia l'estate. Siamo andando a Cetara, passeremo una giornata a mare, si è iniziata l'estate, poi io vivo a Milano, quindi sono venuto a fare un weekend per staccare un po'. Ora andiamo ad Amalfi, un po' a Positano. Qui c'è la fortuna di avere bello, sole, spiagge. Uno dei posti più caratteristici dell'Italia. Mi sta piacendo la campagna. Bellissima, bellissima. Ero già stata anche a Napoli, mi piace molto. Sono innamorata di Ravello, e poi vabbè il fatto che è mare e montagna insieme, cioè è spettacolare. A Positano. Speriamo di divertirci, ci ho portato pure i miei figli per passare quattro giorni diversi. Noi siamo in una gitta di gruppo, andiamo a Positano, poi ad Amalfi. Inizia l'estate ufficialmente. Inizia sì. Grazie a Dio il tempo regge, si sta bene. Perciò buone vacanze a tutti. Momenti di apprezzione. Questa mattina Eboli, nel parcheggio di un centro commerciale dei passanti, hanno notato un bambino di due anni chiuso da solo in un'auto nell'area di sosta. La mamma si era allontanata dalla macchina per fare spese, dimenticandosi della presenza del bambino. Il piccolo è rimasto al caldo, intenso, nell'abitacolo. A notarlo delle persone che hanno allertato i vigilantes del megastore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno rintracciato la madre del bimbo, fortunatamente illeso. Ora la donna rischia una denuncia per abbandono di minore. Parliamo di sicurezza nelle nostre città. A Napoli arrivano i rinforzi. L'annuncio del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Vediamo. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Ecco perché abbiamo aumentato ancora il numero delle forze dell'ordine. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di nuovi rinforzi in tutte le città italiane. Tra queste c'è Napoli, dove negli ultimi tempi la criminalità ha alzato il tiro, sparatorie e agguati avvenuti nel centro di Napoli riaccendono riflettori sulle bande criminali che si contendono il territorio per la gestione degli affari illiciti. Sono oltre 4.800 tra poliziotte e carabinieri. I nuovi operatori che in questi giorni stanno prendendo servizio in tutta Italia. Giovani donne e uomini in divisa che sono certo sapranno offrire un importante contributo al paese. Nelle sole città metropolitane, al netto dei pensionamenti, arriveranno ben mille unità in più. Solo per citarne alcune saranno 221 uomini unità a Roma, 100 a Napoli, 87 a Firenze e a Milano, 74 a Bari, 65 a Venezia, 45 a Bologna, 50 a Torino e 30 a Reggio Calabria. Importanti risorse che si vanno ad aggiungere al rilevante aumento degli organici già realizzato nel 2023 e nel primo semestre di quest'anno. Inoltre, nelle maggiori località turistiche abbiamo previsto per l'estate un rinforzo di oltre 2.000 operatori tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. Un aumento ottenuto grazie alle misure varate dal governo per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza. Intanto le indagini della squadra mobile continuano proprio sulla sparatoria avvenuta tra mercoledì e giovedì dove sono stati feriti due giovani, uno in particolare, in maniera grave. Da Napoli l'appello delle forze progressiste. Uniamoci per contrastare un governo pericoloso e nemico del sud. Vediamo. All'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici l'incontro dibattito crisi della democrazia ed alleanza delle opposizioni unite con il segretario metropolitano di Napoli del PD Giuseppe Annunziata e la deputata coordinatrice per Napoli e provincia del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello. L'obiettivo degli organizzatori raccogliere tutte le forze di opposizione per contrastare un governo pericoloso e nemico del sud. Io credo che intorno alla lotta per i diritti civili e i diritti sociali si possa trovare un'armonia e anche delle intese e credo che tutto il popolo della sinistra, del centro-sinistra ci chiede di essere uniti e di battere queste destre che sono davvero pericolose. Tutti quei temi che questo governo sta mettendo fortemente in discussione. È chiaro che per costruire un'alternativa credibile, realmente progressista alle destre bisogna coltivare un percorso che sia sempre più costruttivo, che sia sempre più autentico, che sia sempre più efficace nelle battaglie che porta avanti. Se mettono insieme l'autonomia differenziata, il premierato, forte, e riformano la magistratura, hanno fatto quelle che un tempo Mussolini chiamava le leggi fascistissime. Dopo non ci sarà niente da fare. All'alba di questa mattina una perquisizione straordinaria presso la casa circondariale di Avellino che ha visto la partecipazione di circa 80 agenti di Polizia Penitenziaria provenienti anche da altri istituti. La perquisizione ha portato allo ritrovamento di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Come spiega Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il SAPE, durante la perquisizione non sono mancati momenti di tensione. Nonostante il cospicuo numero di agenti presenti, il SAPE chiede ai vertici dell'amministrazione penitenziaria di intervenire. Andiamo nel Sannio, invece adesso dove resta centrale la questione sanità, botte e risposta De Luca Rubano sul pronto soccorso di Sant'Agata dei Goti. Sentiamo. Lo stop al servizio notturno del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti è ancora al centro del dibattito nel Sannio. Solo ieri, nella sua diretta social, il governatore Vincenzo De Luca aveva riservato una stoccata al deputato azzurro di Forza Italia Francesco Rubano, accusandolo di fare demagogia con l'iniziativa dei Pullman in regione per protestare. Dal parlamentare azzurro però la risposta arriva a stretto giro. De Luca continua a dimostrare una grande mancanza verso il territorio. Non autorevolezza, non sensibilità, non ha capacità di interlocuzione con le istituzioni al di là del perimetro politico. A lui interessa soltanto avere a che fare qualche volta per tentare di ridimensionare il grido di dolore che proviene dal Sannio quindi tenta di interloquire con qualche alleato nel caso di specie leggo l'ultima dichiarazione di Mastella preferendo di interloquire con l'alleato anziché con tutti i riferimenti istituzionali evitando di colorare diciamo politicamente la vicenda sono scandalizzato. E intanto il Sannio continua a fare i conti con i disagi. Intanto nel pronto soccorso contiamo i morti il personale medico e paramedico non riesce a gestire l'emergenza all'interno del PS di Benevento non interessa la sanità campana non chiama a raccolta la sanità campana quindi la comunità scientifico-sanitaria dell'università per chiedere una mission su Benevento e su Sant'Aga dei Cosi. Ad Avellino entro la prima decade di luglio ci sarà la proclamazione degli eletti la Nargi lavora alla sua squadra due tecnici la mazza favorita come ruolo di vice Ugo Maggio e la vecchia guardia sperano nella riconferma dei ruoli più importanti sentiamo Avellino è pronta ad aprire l'era di Laura Nargi per il 9 luglio è prevista la proclamazione degli eletti data ufficiosa la commissione elettorale preseduta dal giudice Paolo Cassano è al lavoro per quel giorno dopodiché entro dieci giorni va convocato il primo consiglio comunale in quella occasione la Nargi potrebbe già presentarsi a Palazzo di Città con la nuova squadra i tecnici saranno due dai fondi europei al bilancio il rebus vero è sul vice sindaco se la giocano Geppino Giacobbe e Bariana Mazza con quest'ultima favorita in odore di assessorato anche Alberto Bilotta Mario Spiniello e la vecchia guardia genovese e negrone Ugo Maggio spera nella riconferma come presidente del consiglio comunale uno o due poltrone andranno anche agli eletti con rino genovese tra questi c'è Sergio Trezza Deus Ex Machina in questi giorni del Bimbo Days in piazza Libertà che torna in consiglio dopo 13 anni e indica le priorità tre cose secondo me si devono fare lo ribadino il tunnel il centro autismo e soprattutto anche la piscina comunale la ciccadella dello sport con la piscina in quelle condizioni secondo me non si può vedere e gli avvelinesi chiedono un clima di riappacificazione per lavorare assieme maggioranza e opposizione sulle grandi questioni della città rasserenare l'ambiente c'è troppo veleno in giro e beh il tunnel è logico che si dovrebbe vedere la fine no? è ormai data da parecchio è una cosa importante ma soprattutto la vita sociale intanto anche Gennaro Romei consegna la sua analisi del voto non ha vinto il centrodestra la politica vera è altra noi dell'Udc unici coerenti altri pronti a cambiare idea nello spazio di un battito d'ali abbiamo completamente argomento lo scrittore napoletano Amedeo Colella lancia la prima guida gastronomica di Napoli in inglese e suddivisa per quartieri sentiamo la prima guida gastronomica di Napoli scritta in inglese e suddivisa in quartieri si tratta dell'opera Naples Aneider's Guides to the City dello scrittore partenopeo Amedeo Colella uno strumento indispensabile per gli amanti della buona cucina che spazia dalle zone più conosciute a luoghi meno frequentati dalla massa dai piatti più regionali alle iconiche pizzerie è una guida per mangiatori sapete in questo momento molto spesso si privilegia non lo so il ristoratore che sta a fare meglio il web oppure quello che è stellato io ho voluto indicare invece in questa guida i luoghi dove i napoletani vanno a mangiare sul serio e quindi dove il cibo ritorna semplicemente cibo dove si fa una grande genovese un grande ragù l'idea è di fare una guida che serva ecco perché quartiere per quartiere perché se io sono supponiamo alla sanità il mio interesse è sapere intorno a me dove posso trovare come devo dire questi piccoli tesori gastronomici tipici della nostra città insieme a Colella la presentazione dell'opera nella galleria principe anche il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli ci sono tanti americani che vengono qui a Napoli proprio per apprezzare la cultura e il cibo che sono il migliore sull'Italia quindi sono contentissima di avere l'opportunità di conoscere di vedere il libro e di consigliare tutti gli americani che vengono qui per avere un diciamo un viaggio di cibo ottimo adesso apriamo lo sport la pagina dello sport è sempre più Conte Mania a Napoli dove è partita la corsa al Murales per raffigurare la nuova guida tecnica scelta da Aurelio De Laurentiis per riscattare l'annata appena trascorsa ad aggiudicarsi la palma del primo ritratto dedicato a Conte e il writer Vesuviano Luciano Ranieri da giorni impegnato nell'esecuzione dell'opera stiamo vedendo le immagini all'interno di uno stabilimento con sede a Casoria 5 metri per 4 le dimensioni dell'opera commissionata nel dipinto Conte viene ritratto in completo blu giacca camicia e cravatta con la N il logo della società sul bavero della giacca e ancora a proposito di Napoli dopo Quaraschelia e di Lorenzo anche Lobotka parla di un possibile addio ma Conte è stato chiaro l'unico che ha avuto il via libera per andare via è Osimène sentiamo scotto Antonio Conte è stato chiaro decide lui chi va e chi resta il nuovo allenatore del Napoli ha fatto un elenco di quelli che per lui sono gli incedibili di Lorenzo Quaraschelia anghissà Lobotka e Meret quelli da lui citati nessuna confusione qui ora c'è chiarezza ha spiegato il tecnico ammettendo che l'unico che può partire è Víctor Rosimène c'erano accordi già presi ha spiegato Conte che accetto e sui quali non posso dire niente quindi nessuna altra cessione eccellente un concetto che di Lorenzo e Quara hanno iniziato a ricepire visti i primi segnali di distensione ma forse il messaggio non è arrivato a Lobotka che in vista degli ottavi degli europei con la Slovacchia ha parlato del suo futuro il Barcellona mi piacerebbe se arrivasse un'offerta vorrei andarci non è la prima volta che il regista del Napoli viene accostato alla squadra catalana anche se di recente il suo agente ha chiarito che il discorso con gli spagnoli non è mai decollato le parole di Lobotka però non faranno piacere a Conte che ha capito che dovrà fare i conti con le scorie della scorsa stagione un generale malcontento che sembra abbia contagiato gran parte dello spogliatoio va anche detto che i calciatori tendono più facilmente a fare queste dichiarazioni quando sono con le nazionali ma quando conosceranno il nuovo allenatore di persona torneranno tutti nei ranghi visto che Conte ha fatto capire chiaramente che non sarà ceduto nessun big Serie B adesso la Salernitana rischia di perdere Gjomber lo Slovacco potrebbe discutere la risoluzione con il club Filippo Notari Resta a volta nel mistero la situazione societaria della Salernitana che ha pochi giorni dall'inizio della nuova stagione non ha ancora sciolto le riserve sul futuro una situazione caotica che rischia di avere gravi ripercussioni anche sulla programmazione del prossimo torneo cadetto in un contesto non semplice però Gianluca Petrachi sta provando a costruire l'ossatura della squadra ad affidare Andrea Sottil in questi giorni il dirigente leccese ha virtualmente definito alcune operazioni in entrata ma deve necessariamente dare l'accelerata alle operazioni in uscita a sorpresa la Salernitana potrebbe veder partire anche Gjomber il difensore che domani con la Slovacchia affronterà l'Inghilterra negli ottavi di finale dei campionati europei potrebbe rescindere il contratto con l'ippocampo il 31enne legato ancora per un anno alla Salernitana club di cui potrebbe diventare anche giocatore bandiera e che quindi non farebbe cumulo in lista il difensore però sperava in una proposta di rinnovo che al momento non sembra essere nelle intenzioni della Salernitana di cui la possibilità di arrivare alla separazione tramite una risoluzione contrattuale mercato in primo piano anche in casa Juve Stabbia le Vespe stanno lavorando ai fianchi della Spal per provare a riportare a Castellammare di Stabbia il portiere Demba Tiam serve un milione per acquistare a titolo definitivo l'estremo difensore che piace anche alla Salernitana Perfetto è tutto per stasera grazie regia ad Enrico Coppola vi lascio alle previsioni del tempo arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.